Il 19 febbraio scorso è stato firmato a Roma il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa. È un contratto autonomo rispetto a quelli del terziario commercio a quello della distribuzione privata e riguarda i dipendenti delle nostre famiglie cooperative nonché i dipendenti di Trento Sviluppo, dei due superstore di Trento e Roveretto, quindi all'incirca 2.000 addetti con delle fluttuazioni che dipendono dai lavoratori stagionali delle famiglie cooperative. Il contratto è stato rinnovato dopo una lunga gestazione perché è scaduto il 31 dicembre 2013. Prevede sostanzialmente un rinnovo esclusivamente della parte economica, quindi dei minimi tabellari, con la previsione di un aumento nel 2019, tutto concentrato nel 2019 in due tranche, di 65 euro al quarto livello, parametrato al quarto livello, quindi la figura base, la qualifica di commesso alle vendite, nonché un importo, un tantum di 1.000 euro, 500 da erogare subito a febbraio e 500 euro da erogare invece a marzo 2020. Il rinnovo non riguarda la parte normativa perché è stato molto difficile negli anni trascorsi discutere col sindacato le modifiche normative. Si voleva in particolare attraverso queste modifiche normative ridurre un po' di gap anche di costi indiretti rispetto agli altri contratti del settore che si trovano nel miglior trattamento per i lavoratori previsto per esempio in tema di malattia dal contratto della distribuzione cooperativa, ma non è stato possibile e quindi alla fine si è dirottato su un compromesso che prevede il rinnovo solo economico e una ultravigenza cosiddetta, quindi una non varianza della parte normativa. Il giudizio di sintesi è che il contratto è stato rinnovato a condizioni favorevoli per le imprese della distribuzione cooperativa rispetto a quelle delle concorrenti che applicano il contratto del commercio, di confcommercio o della distribuzione privata, perché il montante salariale previsto nell'arco di vigenza di validità del contratto è inferiore notevolmente circa la metà rispetto a quello del terziario e perché appunto con quei 20 euro in meno di aumento sul quarto livello a regime si va a recuperare in buona misura quel gap che appunto si pensava di recuperare sulle parti normative del contratto nazionale. Quindi il giudizio di sintesi è che è un buon contratto naturalmente che genererà dei costi che dovremmo adesso stimare, ma noi attraverso anche i nostri servizi, in particolare il servizio paghe, il servizio di consulenza dedicata del settore, nei prossimi giorni saremo in grado di fornire a tutte le associate.